Musica Colleghi in affari, professionisti e docenti universitari gestivano la rete di depistaggi, corruzione e intralcio alla giustizia. Ha arrestato l'avvocato di Augusta, Piero Amara, regista dei Loschi Affari, insieme al giudice Giancarlo Longo. Maxi inchiesta Sono 19 i medici dell'ospedale di Taormina indagati per la morte della neonata di 4 mesi deceduta nei giorni scorsi a seguito di un intervento alla valvola cardiaca. La bambina aveva già subito due precedenti operazioni a novembre e dicembre scorsi. Sfratti alla regione Palazzo d'Orlean cambia volto e saluta gli uomini del governo Crocetta. Il presidente Ennello Musumeci nomina i componenti delle società partecipate, ma sottolinea sono provvisori. I ruoli dovranno essere ridiscussi dopo le regionali. Paolizza Rosa Nero Un algoritmo matematico applicato ai conti del calcio verrebbe in aiuto del Palermo. La start-up Wallabies avrebbe quantificato in 42 milioni di euro il reale valore della rosa a disposizione di Tedino. Dunque è più che sufficiente a garantire l'assolvibilità del club di Viale del Fante. Ben trovati amici telespettatori al nostro appuntamento con la nostra informazione. Apriamo subito con la cronaca. Depistaggi, corruzione e intraccia alla giustizia. Arrestato l'avvocato di Augusta, Piero Amara, regista dei Loschi Affari, insieme al giudice Giancarlo Longo, insieme a loro professionisti e docenti universitari. Sentiamo. Affari da centinaia di milioni di euro dietro quei processi aggiustati e modificati ad hoc. In manette Pietro Amara, di 48 anni, avvocato di Augusta. Insieme a lui magistrati, avvocati, professionisti, consulenti, docenti universitari con i quali sarebbe riuscito negli ultimi anni a condizionare l'esito di procedimenti amministrativi a vantaggio dei propri clienti e anche delle aziende in cui aveva interessi personali e a frenare o intorbidire procedimenti penali in procure di mezza Italia, da Siracusa a Roma e a Milano. Le guardie di finanza di Messina e di Roma hanno eseguito questa mattina una ventina di ordinanze di custodia cautelare. Le accuse sono di associazione per delinquere, corruzione, falso, intralcio alla giustizia. Oltre ad Amara è finito in carcere il socio e collega Giuseppe Calafiore, magistrato Giancarlo Longo, fino a qualche mese fa PM alla procura di Siracusa, poi trasferito dal CSM per motivi disciplinari al Tribunale Civile di Napoli. Arresti domiciliari per il professore universitario della Sapienza di Roma Vincenzo Naso, il dirigente regionale Mauro Verace e il giornalista siracusano Giuseppe Guastella. Il giudice Longo avrebbe servito gli interessi di Amara, mettendolo a conoscenza di indagini di altri colleghi e tentando di inquinare importanti inchieste. Il prezzo della corruzione? 88 mila euro in contanti, più vacanze offerte a lui e tutta la sua famiglia a Dubai e un capodanno a Caserta. Gli altri arrestati sono Fabrizio Centofanti, Alessandro Ferraro, Davide Venezia, Salvatore Maria Pace, Gianluca De Micheli, Francesco Perricone e Sebastiano Milano. Tra gli indagati l'ex presidente del Consiglio di Stato Riccardo Virgilio. Sei persone sono state arrestate a Catania per usura ed estorsione ai danni del titolare di un'attività commerciale, scoperti in fragranza di reato Salvatore Crupi, di 36 anni, e Roberto Mangiagli, di 39. Entrambi rispondono di estorsione aggravata per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dall'appartenenza all'associazione mafiosa Cappello Bonaccorsi. Il fermo è scattato invece per Claudio Strano, Antonino Grasso, già sottoposto ai domiciliari per altri motivi, Orazio Sapuppo e Michele Rao. L'indagine, disposta dalla procura distrettuale antimafia di Catania e condotta dalla squadra mobile, ha ricostruito le vessazioni ai danni del titolare di un esercizio commerciale catanese, vittima di usure e di successiva estorsione. La vittima, dopo un prestito di 4.000 euro risalente allo scorso mese di settembre, sarebbe stato costretto a pagare interessi usurari del 25% mensile. Per convincerlo a continuare a pagare, Strano gli avrebbe più volte inviato gli emissari, Salvatore Crupi e Roberto Mangiagli. Al commerciante era stato inoltre prospettato addirittura il rapimento del figlio minorenne. E sono 19 i medici indagati per la morte della neonata di 4 mesi, deceduta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Taormina, dopo un intervento alla valvola cardiaca. La bambina aveva già subito tre precedenti operazioni, tra il novembre e il dicembre scorso, prima di quest'ultimo. L'inchiesta sulla morte della neonata di 4 mesi, avvenuta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Vincenzo Sirina di Taormina, ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 19 medici, indagati appunto per la morte della bimba, avvenuta tra il 28 e il 29 gennaio scorso. La piccola era nata con un problema ad una valvola polmonare, ricoverata all'ospedale di Taormina e era stata operata all'inizio di novembre. L'intervento sembrava perfettamente riuscito, sempre come ricostruito dai genitori. A dicembre la bambina era stata di nuovo operata per una tracheotomia. Successivamente era stato necessario anche un altro intervento e il 27 gennaio scorso la situazione si è gravata fino alla morte. I genitori, una coppia di messinesi, si sono così rivolti ai carabinieri di Taormina che hanno acquisito le cartelle cliniche. Il sostituto procuratore, Roberta Laspeme, ipotizza il reato di omicidio colposo per i sanitari che nella breve vita della piccola, 4 mesi travagliati, l'hanno seguita a vario titolo e sottoposto a tre diversi interventi chirurgici. L'esame autoptico sul corpicino della piccola sarà effettuato giovedì prossimo e in vista dell'esame il magistrato titolare del caso ha inviato un avviso di garanzia a tutti i camici bianchi che si sono occupati della neonata. Dall'accertamento medico il magistrato vuole anzitutto chiarire perché il cuore della bimba ha smesso di battere nel reparto di terapia intensiva e poi se ci sono eventuali responsabilità dei sanitari che si sono occupati di lei. E cambiamo argomento. Fuori gli uomini di Crocetta e dentro quelli di Nello Musumeci, Palazzo d'Orlean, Sirri, Fai, Luc, arrivano infatti le nomine transitorie specificano dalla regione dei componenti che comporranno l'ufficio di gabinetto delle società partecipate. Ancora mistero sul volto che guiderà a riscossione Sicilia. Nomine transitorie per aggirare la scadenza dello spoil system, ma i veri cambi verranno fatti dopo le elezioni. Con questa premessa il presidente della regione, Nello Musumeci, ha di fatto nominato i componenti del suo ufficio di gabinetto al comando delle società partecipate di Palazzo d'Orlean, alcuni dei quali quasi sicuramente rimarranno anche dopo le politiche di marzo. Così dunque a prendere il posto del magistrato Antonio Ingroia per Sicilia Digitale, la società nata da Sicilia e Servizi, che si occupa della gestione dei servizi informatici della regione, sarà l'ingegnere informatico Dario Corona. Guida dell'IRFIS sarà Giacomo Gargano, capo della segreteria tecnica e docente all'Università Coree di Enna, mentre al CDA i prescelti saranno Sebastiano Continibali e Lucia Di Fatta. Cambio di vertice anche per la SAS, che sarà presidiata da Gianluigi Amico, capo gabinetto del governatore. A prendere le redini dell'AST sarà invece Mario Larocca, capo di gabinetto dell'assessore alla salute Ruggero Razza, affiancato da Rosalia Pipia e Giuseppe Battaglia nel Consiglio d'Amministrazione. Unica nomina ancora da definire, quella per riscossione Sicilia, anche se stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe vedere in pole position l'ex generale della finanza, Ugo Marchetti, scelte che però dovranno attendere il termine delle prossime elezioni per essere confermate. Accetta l'incarico, ma ancora prima di prendere servizio, abbandona, lasciando scoperto il posto di pediatra nelle madonie. Nulla di grave se non fosse che su 258 medici convocati, nessuno ha poi accettato emergenza nei sette comuni in provincia di Palermo. Vediamo. Ha accettato l'incarico, ma una settimana dopo ha rinunciato, lasciando sette comuni delle madonie scoperti. Su 258 medici che l'ASPE di Palermo ha convocato, attingendo dalla gradatoria regionale, nessuno alla fine ha voluto occuparsi dei piccoli pazienti delle madonie. Rachele Cunzolo però aveva risposto alla chiamata dell'ASPE di Palermo lo scorso 28 gennaio, accettando l'incarico di svolgere il servizio pediatrico per i comuni di Alimena, Blufi e Bonpietro. La pediatra ragusana, ma di origini alimenesi, avrebbe dovuto iniziare il servizio il prossimo 12 febbraio, ma ieri ci ha ripensato, lasciando ancora una volta vacante la sede. I bambini dei sette comuni madoniti restano ancora una volta senza un dottore. Per qualsiasi emergenza i genitori dei piccoli si vedono costretti a rivolgersi all'ospedale Madonna Santissima dell'Alto di Petralia Sottana, dove c'è una guardia medica attiva 24 ore su 24 e dove anche il primario è costretto a fare i turni come colleghi. I vertici dell'ASPE di Palermo, primo tra tutti Antonio Candela, fanno sapere che sono già al lavoro per trovare una possibile soluzione a una vicenda complicata e paradossale. Le difficoltà riguardano anche i comuni delle vicine Petralia Sottana, Petralia Soprana, Gangi e Geraci Siculo. Ed è stato proprio il direttore del distretto sanitario di Petralia Sottana, Gianfranco Licciardi, a trasmettere una nota ai vertici dell'azienda sanitaria provinciale, comunicando che anche l'unica specialista che aveva accettato l'incarico ha dato poi forfè. Nei giorni scorsi era stato lanciato anche un appello al presidente della regione, Nello Musumeci. Dalle tre alle otto ore al giorno, oscurato ai propri elettori, il gazzettino di Sicilia, ormai da dodici giorni sotto attacco hacker, non ci sta e decide di rivolgersi alle autorità competenti. Per Giulio Francese è colpito il diritto del cittadino ad essere informato correttamente. Vediamo. Un caso che ci pone dinanzi la vulnerabilità della rete, così il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Giulio Francese, si è espresso manifestando vicinanza a fronte del problema che ormai da dodici giorni interessa il quotidiano online regionale Gazzettino di Sicilia, i cui server sono stati colpiti da un attacco hacker lo scorso 25 gennaio. Dalle tre alle otto ore al giorno, infatti, la pagina del quotidiano sarebbe risultata irraggiungibile ai propri lettori. Il motivo per cui noi oggi abbiamo voluto uscire allo scoperto è proprio quello di raccontare una storia. Voi immaginate se a una qualsiasi bottega mettessero la colla nei lucchetti per dodici giorni di seguito, se manomettessero la tipografia del giornale di Sicilia per dodici giorni di seguito, quale sarebbe l'impatto nella nostra città, nella nostra regione? Questo non è il problema del Gazzettino di Sicilia. Questo è un problema nostro e lo risolveremo noi tecnicamente. È un problema che riguarda, secondo me, l'informazione online, le regole dell'informazione online, la capacità di investigare sui reati della pirateria informatica, la capacità di reprimerli, la capacità di fare fronte comune, perché oggi è toccato a noi, domani può toccare a chiunque altro. È un problema che non colpisce soltanto la testata, ma l'intero mondo dell'informazione, che colpisce la libertà di stampa, il diritto del cittadino di essere informato. Noi come ordine dei giornalisti lo metteremo all'ordine del giorno, questo problema, proprio per rifletterci e cercare di arginarlo. Gli appelli, anzi, sono due. Il primo è quello che la legislazione faccia il proprio corso e soprattutto si rinnovi, proprio in virtù di questi cambiamenti. E l'altro, che rivolgo a colleghi, a direttori, è quello di denunciare episodi simili a quelli che sono accaduti al gazzettino e stanno accadendo al gazzettino di Sicilia, perché troppo spesso si cerca di risolvere il problema dimenticandosi che stiamo comunque parlando di un reato che va perseguito penalmente e che quindi si ha l'obbligo morale, non solo, di denunciare. E voltiamo ancora a pagina. Mal tempo in Sicilia, dopo che la protezione civile, nella giornata di ieri, ha diramato una comunicazione ufficiale con allerta gialla. Si registrano problemi ai collegamenti con le isole minori. Mal tempo in Sicilia e allerta gialla. Nell'isola, assettata d'acqua, è stata diramata da parte della protezione civile l'allerta per rischio meteo idrogeologico e idraulico valida per le prossime 16-18 ore. Nel corso della giornata, sono attesi nell'isola, specialmente sui settori centro-occidentali, fenomeni temporaleschi accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. La tregua al mal tempo, che sabato scorso, specialmente a Palermo, aveva causato ingenti danni per i forti venti di Scirocco, mobilitando più di una sessantina di reparti dei Vigili del Fuoco per interventi d'emergenza e il dirottamento di numerosi voli su Catania, è definitivamente conclusa. Già a partire da ieri, sono stati numerosi i problemi registrati nei collegamenti tra la Sicilia e le isole minori. La botonave vasta, che collega Trapani alle isole Egadi, è rimasta in porto per tutta la giornata e non è andata meglio nella fascia tirrenica messinese, dove, a partire dal pomeriggio, anche la Siremar ha dovuto saltare le ultime corse che collegano giornalmente Milazzo alle Olie. Da stamane si registrano problemi a causa dei venti forti, anche per i collegamenti tra Palermo e Ustica. Per ore ad avere la peggio è stato il Trapanese, dove in città sono già 52 i millimetri di pioggia caduti in poco meno di 2 ore e 40 quelli caduti a Marsala. Nel corso delle prossime ore, il fenomeno temporalesco si sposterà gradualmente verso est e nord-est, dunque nel messinese e catanese, aspettando la nuova breve tregua che dovrebbe scattare giovedì. Intanto, nonostante tutti i disagi, in tutta l'isola, ma specialmente a Palermo, gli occhi rimangono tutti puntati speranzosi verso il cielo, con la speranza che le ultime precipitazioni possano scongiurare un'emergenza idrica che promette essere la più dura degli ultimi dieci anni. E siamo allo sport incerto, ma apparentemente in via di felice risoluzione il futuro del Palermo Calcio. Se in campo la squadra di Bruno Tedino è chiamata a riscattare la sconfitta di Empoli, nei uffici e nei palazzi giudiziari, proprio la rosa di giocatori sarebbe la polizza assicurativa del club. Sentiamo. Il tesoretto che salverebbe i conti della società, il Palermo, se lo ritroverebbe direttamente in casa. Dopo la proroga di un mese chieste e ottenuta dai periti del Tribunale per la seconda relazione sui bilanci rosa-nero, ecco saltare fuori alcuni dei contenuti inseriti dal club del presidente Gianmarva nella nuova memoria presentata la scorsa settimana. Come riporta il giornale di Sicilia, secondo un algoritmo studiato dalla start-up Wallabies, la stessa spesso usata da Fabio Caressa nel suo club, la rosa del Palermo prima del mercato di gennaio varrebbe ben 42,3 milioni di euro. Una somma molto distante dalla personalissima stima da sempre proposta da Zamparini, attorno ai 86 milioni, ma anche ben diversa dai neanche 20 milioni con i quali la procura aveva bollato il valore modesto del parco giocatore rosa-nero. Cifre quelle proposte dalla start-up specializzata in elaborazione di dati e statistiche inerenti al calcio, che dunque ribalterebbero quella condizione di insolvibilità e di non autosufficienza attribuita al Palermo dalla prima perizia che portò all'istanza di fallimento a fronte del debito fissato dalla procura in 18,3 milioni di euro. Sarebbero quindi Nesteroschi e compagni e la polizza assicurativa del club di Vile Delfante negli uffici così come in campo, nonostante la recente caduta di Empoli. La squadra di Tedino è tornata già al lavoro per preparare al meglio la sfida di lunedì in casa contro il Foggia. Possibile causa assenze, un cambio di modulo passando dal 3-5-2 ad un 4-2-3-1 difficile da assemblare con a destra Rispoli ancora non al meglio e un Rolando da recuperare, oltre che per il rebus degli esterni. Partito a Embalo per la fascia opposta a quella di Traikoschi. Ci sarà da scegliere tra Lagumina e Moreo. Giornata di sorrisi e motori per i più piccoli. Quella tenutasi domenica all'Ascari nel Palermitano dove per la prima volta è stato possibile organizzare una prova di gara dedicata alle minimoto in sella dei piccolissimi centauri dai 4 ai 8 anni che hanno disputato due gare tipo campionato di superbike lungo il cartodromo di Lascari stilando alla fine una classifica di arrivo secondo la somma dei punti ricevuti in funzione della posizione di arrivo in entrambe le gare. Tutti i bambini hanno ricevuto la loro coppa di premiazione alla presenza di un copioso gruppo di spettatori tra amici, parenti e curiosi a bordo pista anche la presenza di un'ambulanza della Croce Rossa italiana nel rispetto delle norme di sicurezza. E questa era l'ultima notizia. Per il momento è tutto. Adesso vi lasciamo al Meteo. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Ben trovati a un nuovo aggiornamento Meteo. Diamo insieme uno sguardo alla giornata di mercoledì che vedrà una vivace instabilità su un po' tutta l'Italia anzi è tempo a tratti perturbato nord-est e tutta la parte tirrenica con piogge d'acquazzoni localmente anche qualche forte scroscio di pioggia appunto sulle regioni tirreniche. E attenzione anche alle nevicate che cadranno in montagna. Quote medie sull'Appennino, quote basse invece sul nord-est. Ma entriamo più nel dettaglio della previsione coltre nuvolosa che interesserà molte zone del centro-nord più schiarite all'estremo sud risparmiato da questa zona di bassa pressione posizionata proprio sul tirreno. Nel dettaglio ecco la grafica ci fa vedere le piogge su molte zone del nord specie tra Lombardia e nord-est qui nevicate a quote collinari piogge d'acquazzoni bagneranno anche molte regioni centrali ma soprattutto guardate la parte tirrenica e temperature che appunto anche sulle regioni centrali oltre i 900-1300 metri di quota favoriranno le nevicate. I dettagli più precisi però sull'App di Trebi Meteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.